Caccia, praticamente hai fatto tutto tu. Due gol, l'assist per Reconomidis, il gol per il salvataggio sulla linea. Pareggio giusto? Pareggio che probabilmente sta un po' più stretto a loro, se bisogna essere obiettivi, quindi penso che bisogna sempre esserlo. Abbiamo rinunciato troppo presto a giocare noi, abbiamo troppo lasciato loro imporre il proprio gioco e comunque noi, una squadra come la nostra, in questo momento del campionato, avendo due gol di vantaggio in questa partita dove probabilmente ci potevamo salvare, forse anche matematicamente, vedendo anche gli altri risultati, dovevamo essere un po' più bravi e invece abbiamo peccato un po' di personalità e questo è un po' il campionato di Serie B. Dicevi, con grande onestà intellettuale, merito più della Salenitana o scelta tecnica dell'Ascoli che ha abbassato, ha tirato un po' troppo i remi in barca a tuo avviso? No, abbiamo tirato un po' i remi in barca noi, perché comunque andando su di due gol, incosciamente l'abbiamo gestita un po' male, abbiamo lasciato comunque giocare loro, che tra l'altro loro comunque sono abituati a fare questo tipo di gioco, perché loro lanciano molto queste palle davanti, perché hanno due ragazzi bravi davanti, importanti e quindi stanno facendo bene, quindi puntano giustamente, si punta molto sul loro approdo lì davanti. Però noi abbiamo concesso troppo, voglio dire, noi potevamo essere un po' più volenterosi, un po' più coraggiosi nel cercare di imporre almeno un po' anche il nostro gioco, invece, inspiegabilmente, ma io dico incosciamente, abbiamo un po', ci siamo abbassati troppo. Daniele, non si dice mai, almeno apertamente, ma di fatto c'è, c'era anche una sfida nella sfida tra due bomber, prima del fischio d'inizio, Caccia coda, 15 gol. Caccia, io avevo detto, ogni 175 minuti è abituato alle doppiette, quindi mi auguravo che la facessi la prossima, invece ci avevi preso il vizio da Terni ad Ascoli, hai castigato la Salernitana che ti ha voluto spesso, a Salerno non si è mai concretizzato il tuo passaggio in Granata. Sì, sì, no, no, a parte le battute, però penso che sfide contro sfide, almeno da parte mia, non ce n'era oggi, perché per me è importante ogni domenico, ogni sabato, quando si gioca, cercare di fare gol, quando riesco due, quando riesco tre, però solamente per un obiettivo solo, che è quello di portare più punti possibili a questa squadra, a questa società e a questi tifosi, quindi non c'era un tipo di sfida. Salerno, sì, qualche volta siamo stati molto vicini, soprattutto l'anno che c'era Mario Somma. Il mese che c'era Mario Somma. I venti giorni, sì. Infatti, poi quando... È vero che ti chiamava di notte? Sì, mi ha chiamato di notte, a tutti gli orari mi ha chiamato, poi lui su di me ha avuto sempre una grossa, sia a parte la stima, ma ha avuto sempre una grande influenza su di me, quindi quando lui parla, io mi mobilizzo, quindi quando mi chiamò quella volta lì, non nego che insomma ci pensai più volte per fare quel passo lì, però poi alla fine non me la so sentita, perché comunque avevo due anni fa, quindi avevo ancora... Contratto col Bologna, credo. Sì, avevo ancora... Importante. ...andavo per i 31 anni, sapevo di avere comunque una società importante come la Serenità, però comunque in una piazza dove voleva rivincere subito il campionato e quindi mi hanno insegnato... ...il senno di Bologna... ...sì, tutta la vita, ma è normale, perché il ferro mi hanno insegnato che il ferro lo devi battere quando è caldo e quindi quando ti capitano certe occasioni non le puoi tralasciare. E invece tornando al campionato cadetto attuale, virtualmente Salvo Lascoli, questa Serenitana, bagarre retrocessione, hai numeri per tirarsi fuori con un estente elettuale, hai detto anche due ragazzi lì davanti, molto interessanti, Coda e Donalum, ma chi ti è piaciuto di più? Ma sono tutte e due bravi, sono tutte e due bravi perché... Tra l'altro Donalum è meno possente fisicamente di Coda, però quando salta di testa riesce sempre a prenderla lui, quindi è importante anche nelle palle aeree, però io penso che la Serenitana può uscire, adesso sabato se non sbaglio avete il Modena in casa, quindi questa sia una partita fondamentale... Un'eliminazione diretta? Sì, quasi un'eliminazione diretta, nel senso che vincendola puoi fare le ultime due per un obiettivo, perdendola devi cercare di raggiungere un altro obiettivo. Ultimissima invece per quanto riguarda il futuro di Caccia, intanto sabato prossimo non ci sarai perché hai preso una munizione, che è successo con Ronaldo? Scaramunce di campo? Sì, classica, insomma, inerso di partita e purtroppo una munizione... Nei due gol qual è stato il più difficile? Hai fatto uno scatto imperioso, prima te la sei andata a recuperare, se non ricordo male la palla. Ma il primo mi sembra che è stato un rilancio di Bernardini che mi ha sbattuto addosso, quindi poi è arrivato Altobelli e... No, nel dei due è stato più difficile il secondo perché c'erano cinque giocatori che coprivano la porta e non sapevo realmente dove potevo calciarla per far gol all'angolino libero e penso che era l'unico punto dove si poteva far gol. E poi ce l'hai tolto dal colpo di testa di Gode? Ne ho salvato anche uno oggi, sì, e quindi meno male, insomma. Per questo, ripeto, noi dobbiamo essere obiettivi e dobbiamo capire che forse oggi il risultato va meglio a noi perché la Salernitana forse va qualcosina in più. Chi ti è piaciuto di più della Salernitana? Beh, Ronaldo a centrocampo penso che è un buon giocatore a due piedi importanti. Daniele, invece per quanto riguarda la quota salvezza, secondo te? Secondo me quest'anno 48 potrebbero bastare, però la B è strana, quindi da giornata in giornata si può cambiare sempre tutto, però io penso che a 48 quest'anno possa bastare. Ultimissimissima, il fatto che hanno tirato fuori Orsolini ha favorito la Salernitana? No, 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 penso che non c'entra niente, non c'entra niente perché la Salernitana ormai ci aveva messo sotto lì quindi penso che ci avrebbe comunque schiacciato come ha fatto negli ultimi minuti quindi le sostituzioni penso che non c'entrano niente.